Ciao a tutti, oggi vi volevo raccontare questo ritratto di Pablo Picasso che si chiama il ritratto di Gertrude Stein, una sua carissima amica, la sua mecenata, la sua prima mecenata insieme al fratello. Gertrude Stein è una figura straordinaria, una donna forte, una scrittrice, un intellettuale che approdò a Parigi proprio nel periodo meraviglioso della città in cui alcuni artisti che sono diventati poi delle star, tra cui Picasso iniziavano a dipingere o cominciavano a frequentare l'ambiente di Montmartre e mostravano i loro dipinti a persone che li ritenevano a volte inutili, brutti, inaccettabili, così succedeva anche a Picasso, mentre lei li collezionava ed era riuscita a creare un cenacolo intorno a sé di artisti che in seguito diventeranno importanti nella storia dell'arte. Picasso ha un rapporto particolare con la Stein, tant'è che lei scriverà un libro molto bello, una biografia su Picasso, racconterà gli anni della loro amicizia. Lui decise di farle un ritratto, però in modo originale utilizzò lei come modella, nel senso che normalmente Picasso non aveva modelli, infatti era criticato per questo e si diceva che avrebbe generato la disoccupazione fra i modelli degli artisti, perché lui non voleva guardare dal vivo una persona per ritrarla, la osservava e poi dopo andava in studio e la dipingeva. Nel caso invece della Stein la vide circa 80 volte per realizzare questo dipinto e ad un certo punto il volto fu per Picasso un vero e proprio dilemma, tanto che lo cancellò e disse all'amica non riesco più a vedere il vostro volto, non riesco più a dipingervi come vi vedo. E poi in realtà invece lo realizzò. Tra l'altro il volto ha questi tratti forti, imperiosi che ricordano la Stein, ma ricordano anche un periodo di cambiamento di Picasso. Siamo nel 1906 ma lui si sta per avvicinare al protocubismo e quindi questi tratti ricordano un po' il lavoro che verrà in seguito. La figura è monumentale, il ritratto ricorda i ritratti classici dove l'imponenza della figura in qualche modo sovrasta l'immagine stessa della persona. E questo quadro poi quando fu esposto, quando Picasso lo regalò alla Stein, che a sua volta lo mise nel testamento, lo lasciò al Metropolitan dove attualmente si può vedere. Però molti lo videro come un'accentuazione eccessiva della personalità della Stein. E c'è un altro aneddoto interessante in cui Picasso lo disse alla Stein, lo disse anche ad altre persone, che effettivamente il quadro, come dicevano alcuni, non assomigliava molto alla Stein all'epoca, cioè nel 1905, nel 1906, ma alla fine la Stein, diceva Picasso, avrebbe preso le sembianze del dipinto, cioè sarebbe diventata come era rappresentata dal dipinto stesso. Infatti poi, in età più matura, la Stein diventò come dipinto stesso. E quindi, in un certo qual modo, Picasso vide come lei sarebbe invecchiata, come lei sarebbe maturata, come lei sarebbe cambiata, nello straordinario rapporto che aveva con lei, ma anche nella sua incredibile capacità di vedere e intuire le forme, i volti, i tratti delle persone nella loro evoluzione. Se volete avere altre informazioni su Pablo Picasso potete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate tutta la sua opera.